Ben trovati da TG della mobilità. Metro C proseguono i lavori per il prolungamento della linea al Colosseo da domani 23 settembre al 7 dicembre per procedere con prove integrate e test sono previste alcune modifiche del servizio. Da questo lunedì fino al 31 ottobre la tratta Malatesta-San Giovanni chiuderà alle 21 e poi il collegamento avverrà con bus-navetta. Ancora dalle 20 e 30 del 4 ottobre a tutto il 6 ottobre e dalle 20 e 30 del 25 ottobre al termine del servizio del 27 ottobre la metro sarà sostituita da navette e bus sull'intera linea. Dal 1 novembre al 7 dicembre di sera la metro C sarà sostituita dai bus a partire dalle 20 e 30.